Eder, Mech, Pallister. Di diverse fotografie che vedrebbero ritratti Liliana e Claudio Sterpin, le stesse si troverebbero all'interno di alcuni hard disk sequestrati, il marito di Liliana al riguardo si limita a dire, l'unica foto, quella di copertina che ho e che li ritrai assieme è quella che ho scattato io, sulle rive, in occasione di un raduno dei bersaglieri. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Eder, Mech, Pallister!